Donne vittime di violenza tra le mura domestiche che hanno bisogno di aiuto e sostegno e ancora ragazze che non riescono a trovare un lavoro e cercano un'occupazione. A questo è dedicato il Centro Donna di Mogliano Veneto, uno sportello rivolto a tutte le donne di tutte le età per la promozione delle pari opportunità. Proprio in questo periodo di crisi, in cui crescono i casi di violenza e in cui aumentano le difficoltà nel cercare un lavoro, preganziò il casale sul sile Mogliano Veneto e Casier si sono uniti insieme per creare uno spazio di ascolto. È impressionante, dal sindaco arrivano in tante persone di diverso genere, di diverso città sociale, donne anche benestanti che vengano a lamentarsi per aver subito profonde violenze, così come anche altre signore e io reagisco per come posso fare con un consiglio, concretamente finalmente avrò uno sportello attrezzato per supportare le donne in questi percorsi. Lo sportello sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 11 presso la sede delle politiche sociali a Mogliano Veneto, un luogo dove trovare sostegno e orientamento psicologico per le donne che non sanno dove chiedere aiuto. Il Comune di Mogliano ha subito firmato un protocollo con la prefettura contro la violenza alla donna. Io spero che proprio questo centro possa aiutare a tirare fuori quelli che sono i problemi di violenza, soprattutto sotterranea, all'interno della famiglia, che secondo me stanno aumentando. Il centro donna sarà un'occasione di formazione e di riqualificazione personale per chi si rivolgerà allo sportello con la necessità di un inserimento lavorativo, ma sarà anche un centro di organizzazione di eventi culturali grazie al lavoro di persone presenti nel territorio. Nel caso dell'inserimento lavorativo possono essere attivati dei mini percorsi di accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro. Il servizio funziona perché lavora assolutamente in connessione e in collaborazione con tutti gli altri soggetti del territorio.